... Ancora razzie nelle abitazioni in una marca sempre più bersaglio dei ladri, stavolta nel Merino Zero Branco, in un caso sportati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza. Ancora attacchi Novax nella marca dopo CGL, il sindaco di Treviso nel Merino torna il presidente della regione, le scritte apparse lungo l'Ostiglia, quinto. Continua a far discutere il caso del video contro la polizia, girato e pubblicato durante i controlli di venerdì notte a Treviso, le parole del deputato Boff, la vicenda sul tavolo del ministro della giustizia. Extra profitti energetici da restituire allo Stato, mentre la rivolta dei sindaci si allarga il capofria della protesta, il sindaco di Farra scrive una lettera al premier Meloni per chiedere di modificare la norma. Scoperta dalle fiamme gialle, oltre 4 milioni di euro occultati in paradisi fiscali a finire nei guai due imprenditori del Trevigiano. Rapinata dell'auto dal 19enne di Riese, che ha poi investito e ucciso un ciclista, una pensionata di Vallaccio ha chiamato perché senza macchina, ancora sotto sequestro e non sa più come fare a microfono, il racconto di quei drammatici momenti. Rite violente tra due donne, a suon di pugni, calci e bottiglie rotte, successe in una sala slotta pre-ganziolo, una 28enne in ospedale. L'unico modo per evitare le conseguenze dell'iscaldamento globale non è limitare le nostre attività, ma cercare altrove la salvezza del pianeta, la Luna, Marte e gli asteroidi. Così l'astronauta Roberto Vittori, a cui è andato il riconoscimento honoris causa del premio letterario Gambrinus Mazzotti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Questi titoli dunque, in primo piano però, ricordiamo il sondaggio che abbiamo lanciato nel corso dei nostri telegiornali e che riguarda la vicenda dei migranti, il braccio di ferro tra Italia e Francia. Allora vi chiediamo, vi stiamo chiedendo profughi e ONG, serve la pace con la Francia? Se per voi la risposta è sì, 04221626691. Se per voi invece no, 04221626690. Chiamata come sempre gratuita e lo ripetiamo sempre, ma è bene ricordarlo, non preoccupatevi se sentite il numero occupato, quale che sia la vostra scelta, il cervello elettronico registra una delle due opzioni. Dunque il tema ONG, che è il rapporto Italia-Francia, che resta ovviamente in primo piano a livello nazionale. Adesso però un'altra piaga, quella dei furti, che continua ad essere ampia nella marca trevigiana, nei ladri scatenati, questa volta a zero branco. Sono stata chiamata dalla mia vicina, che mi ha detto, guarda Aurella, avete i ladri in casa, perché abbiamo sentito sbattere sulla porta, e l'allarme che suonava. Quindi mio marito è tornato subito, e ha visto la porta spalancata, praticamente tutta scardinata, e io nel frattempo ho chiamato i carabinieri. Loro praticamente sono entrati, sono andati nel piano superiore, in camera mia, e hanno aperto l'armadio, e hanno fatto razzia dell'oro che avevo in armadio. Tre vie razziate in poche ore. L'incubo dei ladri in casa nella marca non accenna a placarsi. Zero branco nel mirino dei ladri scatenati ieri sera, poco dopo le 18. Almeno sei le abitazioni visitate, tra via Bertonneria, via Bombena e via Visnò. Tra i residenti, rabbia e paura. Alcuni di loro preferiscono non mostrarsi. Furto mi ha portato via dell'oro che avevo, e danni mi ha rovesciato tutto, tutto, tutto. Dai cassetti, dai armadi, mi ha rovesciato dappertutto. Siamo partiti ieri sera alle 18, e alle 21 eravamo a casa, nel tempo di tre ore. Sembrava niente. L'attrezzo che hanno usato per scassare la finestra, che l'hanno col trapano, l'hanno bucata. Tutto per terra, tutti i cassetti aperti, hanno buttato giù tutti i quadri per cercare probabilmente la cassaforte, però non abbiamo trovato impronta, non abbiamo trovato sporco. In una circostanza è stato asportato da una delle abitazioni anche l'apparato di registrazione delle telecamere di sorveglianza. La tecnica è sempre la stessa e i ladri sembrano molto esperti. È caccia aperta ai malviventi da parte dei carabinieri. Stamattina sono stata chiamata da un altro mio vicino, che mi ha detto, Rai, la vieni a vedere nel mio campo, perché ho visto che ci sono collane in giro, roba che sicuramente sono cose che hanno scartato. Si è tanta paura, insomma. Anche perché ho sentito che non sono venuti soltanto qua, ma hanno girato anche su altre case. E poi continuano i raid dei Novaks. Da Zaya Assassino a Zaya Boya il vaccino uccide. Raid a quinto di Treviso, stavolta lungo la Ostiglia, ad accorgersi delle numerose scritte vergate su panchine e cartelle alcuni volontari della vicina colonia felina che hanno chiamato i carabinieri. Si tratta dell'ennesimo blitz che vede interessata la marca trevigiana dopo le scritte, lo ricorderete, davanti alla sede della CGL. Quelle contro il sindaco di Treviso, Mario Conte, apparse davanti a una scuola e l'attacco poi alla sede della microbiologia dell'ospedale Caffoncello allagata in un raid vandalico. E continua a far discutere anche il caso del video contro la polizia girato e pubblicato durante i controlli di venerdì notte a Treviso. Abbiamo raccontato ieri nel corso del nostro telegiornale le parole del deputato Gianangelo Boff che dice interesserò di questa vicenda anche il ministro Nordio. Finirà sul tavolo del ministro della giustizia il caso del video di un giovane morocchino ubriaco in possesso di stupefacente contro gli agenti di una volante della questura di Treviso. A confermarlo oggi alla nostra Francesca Bozza il deputato della Lega e sindaco di Tarzo Gianangelo Boff che punta a ripristinare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ci deve essere un reato che chi come era prima che chi offende insulta o oltraggia le forze dell'ordine i pubblici ufficiali deve essere procedibile d'ufficio penalmente. È un appello rivolto al ministro Nordio in qualche modo quello di poter metterci mano onorevole? Secondo me è una delle cose che mi sono appuntato è una delle cose con le quali ne parleremo con chi è e noi abbiamo anche l'onorevole Bisa che è in commissione giustizia. Questo mentre dal SAP sindacato autonomo polizia parte una richiesta indirizzata al questore di Treviso. Ci aspettiamo assolutamente la presentazione da parte della questura di una denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti che saranno poi individuati dall'autorità giudiziaria. Sindacato che ipotizza come quel video montato ad arte sia stato una sorta di agguato al quale rispondere munendo gli agenti delle telecamere sulla divisa. Ogni poliziotto indossa una telecamera lo vediamo nei film americani. Quella telecamera registra tutto deve essere registrato tutto e non deve essere manipolato nessun tipo di immagine. In caso di problemi l'autorità giudiziaria prenderà in carico queste immagini e ne farà eventualmente una fonte di prova. Infine il sindacato lancia un appello a chi garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini. bisogna guardarsi le spalle e bisogna fare attenzione a tutte queste componenti poi manipolatorie che vengono messe in atto. Torneremo alla cronaca tra poco prima però torniamo a parlare della vicenda degli extra profitti energetici derivanti dagli impianti fotovoltaici dei comuni lo stiamo raccontando in questi giorni mentre il fronte dei sindaci si allarga lo abbiamo ricordato anche nel telegiornale di ieri c'è una nuova iniziativa del sindaco di Farra di Soligo che per primo ha sollevato la questione che oggi ha scritto alla premier Meloni. Ho scritto appunto alla presidenta del consiglio Meloni e a vari ministri al ministro dello sviluppo economico al ministro dell'economia proprio per chiedere di rivedere la norma. Eccola la lettera inviata nel pomeriggio al governo dal sindaco di Farra di Soligo Mattia Perenci nel primo nella marca ad aver sollevato davanti nelle nostre telecamere la questione delle fatture che stanno arrivando nei municipi relativa agli extraprofitti derivanti dagli impianti fotovoltaici di proprietà dei comuni soldi che i sindaci avrebbero reinvestito nella macchina comunale e che ora si trovano costretti a restituire a Roma. Il primo cittadino ha inoltrato la lettera anche agli altri colleghi intanto della provincia di Treviso nei prossimi giorni di tutto il Veneto con un obiettivo ben preciso. Affinché anche loro possano se si trovano nelle situazioni del comune di Farra di Soligo inviarla al governo cosicché più richieste arrivano più segnalazioni arrivano probabilmente più veniamo presi in considerazione. L'auspice è quello di far fronte comune tra sindaci spingendo il governo di fronte ad una mobilitazione significativa dei primi cittadini di ogni colore politico a rimettere mano alla norma anche perché sottolinea Perencin non si tratta di casi isolati. Io ho sentito come dicevo diversi colleghi che dopo i vostri servizi e dopo appunto le mie prese di posizione mi hanno telefonato dicendomi appunto che c'è il grosso rischio che molti non riescano veramente a pagarle soprattutto quando veramente in difficoltà con il bilancio. Mentre alcuni sindaci hanno presentato ricorso cresce il fronte di chi non ha intenzione di pagare nonostante i solleciti come nel caso di Farra che attende la mossa dell'esecutivo ma il tempo a disposizione è poco e entro il 30 novembre vanno effettuati i pagamenti. Non ho nessuna intenzione di piegarmi non ho nessuna intenzione di fare marcia indietro. E quando chiediamo al sindaco se pagherà proprio il giorno della scadenza o il primo dicembre? Vediamo. Il caro Mollette il caro Materie Primi affligge tante categorie e in un'ultima quella dei panificatori con cifre sempre più inquietanti. I miei colleghi che erano un po' in difficoltà hanno preferito chiudere 4-5 attività sicuramente tenendo conto che siamo siamo rivasti in 150-160 iscritti al nostro gruppo sono parecchi dai 300 che eravamo 10 anni fa in 10 anni ci siamo ridotti la metà. Il 50% dei panifici della marca trevigiana negli ultimi 10 anni ha chiuso definitivamente un fenomeno figlio dei tempi delle difficoltà legate al cambio generazionale e oggi più che mai condizionato dagli aumenti di luce e gas se si spendeva sotto i 500 euro 480-490 euro al mese siamo passati a 1.600-1.700 parlando del gas energia elettrica più o meno la stessa cosa simile all'andamento delle materie prime farine e zucchero lo zucchero dai 55-60 centesimi al chilo è passato all'euro sopra l'euro la farina prima costava sotto i 50 centesimi adesso il grano tenero va sopra i 70-75 sono stati questi i temi al centro dell'assemblea provinciale del gruppo panificatori di Ascom nel fine settimana a Valdo Biadene al termine dell'incontro è stata preparata una lettera di richiesta al governo per attuare interventi strutturali per la riduzione dei costi delle materie prime e anche per evitare accapparramenti o cose strane oppure che ci mancano farine o altre materie prime e soprattutto che energia elettrica e gas che per noi sono essenziali ci vengano in qualche maniera adatti a un prezzo politico torniamo alla cronaca l'indagine della guardia di finanza sui paradisi fiscali abbiamo individuato due imprenditori trevigiani che hanno occultato all'estero 4,2 milioni di euro presso banche con sede in Svizzera e nel Principato di Monaco paesi definiti come paradisi fiscali nei guai sono finiti due imprenditori trevigiani attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell'arredo per uffici le indagini delle fiamme gialle grazie alla cooperazione internazionale tramite il reparto del comando generale hanno permesso di ricostruire le entità delle somme che due contribuenti hanno trasferito all'estero facendoli sfuggire al fisco italiano le disponibilità finanziarie erano intestate in questi paesi esteri non direttamente ai due imprenditori ma a società appositamente create per evitare di creare un collegamento diretto con le due persone soggetti giuridici creati appositamente per schermare ulteriormente i titolari delle cospicue somme e rendere più difficoltosa la loro individuazione ma le fiamme gialle sono riuscite a risalire ai due imprenditori gli elementi acquisiti hanno consentito di ricondurre le somme giacenti sui rapporti mancari esteri ai due contribuenti trevigiani e sottoporle a tassazioni in Italia ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ricoprando quasi 2 milioni di euro le indagini hanno avuto origine da una segnalazione della guardia di finanza di Firenze che aveva individuato un'associazione a delinquere finalizzata l'indebita raccolta di risparmio sul territorio nazionale indagini che avevano scoperto come diversi cittadini italiani tramite un'organizzazione criminale trasnazionale avevano trasferito capitali ingenti all'estero in paesi considerati a fiscalità privilegiata poco più di un mese fa la folle fuga in Pedemontana lo ricorderete il 19enne di Riese che rubò tre auto e poi uccise un ciclista ebbene la donna che per prima fu rapinata dell'auto dal 19enne una pensionata di Vallaccia ha chiamato ancora senza macchina peraltro ancora sotto sequestro non sa più come fare e dopo un mese e mezzo ha ancora paura di quei drammatici momenti un mese e mezzo era il primo di ottobre alle 9 di mattina hanno ancora da consegnarmi le macchine neanche andare portare i fiori a me ma io non posso perché io go la signora Cecilia 80 anni di Vallac è la prima delle tre donne rapinate dell'auto la mattina del primo ottobre dal 19enne di Riese Steve Quintino che senza patente al volante delle tre vetture ha compiuto una folle corsa fino a Fonte investendo e uccidendo un ciclista il 67enne di Loria Mario Piva la procura sta completando le indagini ma la pensionata non si capacita del motivo per cui la sua auto una Honda non sia stata ancora dissequestrata l'anziana asmatica è costretta a muoversi a piedi o a chiedere continui passaggi ai figli e anche questa è una conseguenza della tragica scorribanda messa in atto da Quintino quella mattina ha preso le chiavi dalle mani sono restate col te e mando le man mi ha dato un spentone mi sono ritrovata a mezzo 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 nato dentro in garage ho preso la macchina ho dato una botta la e via è stata la fortuna che non mi sono opposta messa dietro perché con quello che ha combinato dopo quello mi tirava sotto quanta paura ha preso quella mattina tanta perché per fortuna avevo il pesmec perché se ero ancora ridotta come prima addio l'infarto facevo sebbene sia consapevole che c'è chi quel giorno ha subito danni ben più gravi anzi irreparabili Cecilia ci ha chiamato per sollecitare la restituzione dell'auto di cui ha bisogno anche per accudire i nipotini mi confido mi confido nella vostra intervista su questa intervista su qualcosa che che posso avere una risposta insomma perché dopo la macchina è anche da aggiustare e chi paga io non ho i soldi a pagare sto misero appartamentino qua per sora e basta non ho altro io che penso stop non ho altro e spero che si risolva presto questo problema perché io non ce la faccio più andare avanti così beh diciamo che il consiglio comunale intanto buonasera Nicola buonasera telespettatori di Antena 3 diciamo che il consiglio comunale pur essendo caldo diciamo così nel tema è stato comunque corretto nei termini chi si aspettava una grossa bagarre in realtà sarà andato deluso però bisogna dire che da una parte in particolare della consigliera Tocchetto che ha chiesto di capire il perché c'è stata la sospensione del bando cioè i motivi veramente legali in tal senso ma anche dal consigliere Pelloni per capire diciamo quali sono state le motivazioni o comunque se era vero che c'erano queste mazzette che ci giravano c'è stata diciamo la contro la contro deduzione da parte dell'assessore Gloria Tessarollo che ha dato dei dati devo dire abbastanza importanti il primo ad esempio che ci sono treici sfratti in corso qui nel comune di Treviso entro la fine dell'anno ce ne sono stati già dodici che sono stati coperti con dodici altri alloggi ritirati e nove invece che purtroppo hanno ricevuto un no dal comune di Treviso altro dato importantissimo è che il comune cioè noi tutti noi abbiamo investito fino adesso anzi non abbiamo investito ma non abbiamo ricevuto oltre un milione e duecentomila euro per morosità non pagate al comune di Treviso mentre sono stati come dire erogati dal comune di Treviso contributi per altro milione e duecentocinquanta mila euro questi numeri stanno a significare il momento davvero difficile per quanto riguarda l'emergenza abitativa ed è solo il preludio di quello che capiterà i prossimi mesi ha detto l'assessore Tessarolo nel merito e poi ti ridò la linea dice noi in questo momento non siamo rimasti con le mani in mano c'è un'inchiesta in corso con quello che c'è rimasto delle carte perché le altre sono tutte quante in procura stiamo andando avanti stiamo portando avanti quelli che sono diciamo così le situazioni ma bisogna entrare nell'ordine di idee che non ci sono case per tutti e che questo clima di diciamo così di rabbia fra virgolette che poi è scattata che ha fatto sì che l'ufficio casa sia stato portato all'interno del comando dei vigili urbani crei ulteriore tensione per certi versi da notare poi la chiusura fatta dal sindaco Conte in tal senso dicendo che c'è un problema ma il vero problema non sono le mazzette perché il sindaco si è sentito di garantire per tutti i dipendenti mazzette non ne girano quello che è stato il problema per cui alla fine le graduatorie è saltata ma ce ne sarà un'altra che verrà portata in approvazione al prossimo Consiglio Comunale sono le dichiarazioni le autodichiarazioni fatte da diverse famiglie che non corrispondevano alla realtà il motivo per il quale una volta controllate queste autodichiarazioni si è dovuto annullare la graduatoria altri argomenti in ordine del giorno sono interessanti in questo momento la discussione su alcuni cambi di destinazione d'uso per quanto riguarda Borgo Mazzini sapete il cuore della città dove c'è anche una famiglia famosa la Pinarello che si è ricomprata nel negozio e poi ovviamente altre varie eventuali ma intanto per il momento il problema a casa rimane e rimarrà ancora per molto tempo a te grazie grazie davvero a Lucio Zanato per questo squarcio sul Consiglio Comunale intanto a Treviso continuano le segnalazioni dei residenti lavoratori dell'area Piani che lamentano l'occupazione delle aree di accesso al parcheggio da parte dei senza tetto vediamo il servizio vediamo il servizio era un servizio vediamo il servizio lungo le rampe si trova di tutto si trova di tutto da oggetti personali a frutta mangiucchiata queste rampe qua lei scende giù arriva fino al menù 1 quindi se lei fa questa rampa qui arriva a 1 a 0 poi c'è un'altra rampa di scale che va all'interrato vero e proprio e più giù si va e più regali si trovano solo due mesi fa era intervenuta la questura per il ripristino dell'ordine nel parcheggio dell'area a Piani dove si erano stanziati in modo abusivo 35 richiedenti asilo ma a distanza di tempo la situazione sembra essere tornata a quella di prima con bivacchi dormitorio nel vano scale e interno del parcheggio P1 giallo onestamente capisco che una signora di 60 anni che viene via dall'ufficio alle 6 e mezzo di sera se ritrova il piano interrato penso che non abbia non sia contenta i fruitori del parcheggio sostengono in particolare che gruppi di stranieri lasciano materassi odore sporcizia e panni stesi sul corrimano delle scale e siano ben organizzati con un vero e proprio centro di stoccaggio vicino all'ascensore capisco che hanno bisogno anche di svernare smottare non sanno dove andare però speriamo che a quanto prima chi deve intervenire intervenga a mettere a posto questa situazione qua che ormai è un po' che si protrae e adesso a Preganziol e di nuovo la cronaca con una violentissima lite tra due donne forse una parola di troppo ed è scoppiata una furibonda lite tra due donne è accaduto nella notte intorno alle 2.30 presso una sala slot di Preganziol sicuramente alla base futili motivi certo è che una 37enne di origini marocchine in stato di evidente alterazione psicofisica si è scagliata violentamente contro una 28enne del posto presente nel locale sono volati schiaffi pugni calci poi la straniera ha preso in mano il coccio di una bottiglia ed ha minacciato la giovane non solo nella collutazione le ha strappato anche l'orecchino procurandole una ferita a lobo sinistro ad allertare i carabinieri le persone presenti nella sala slot sul posto sono arrivati i militari del radiomobile della compagnia di Treviso a seguito della lite entrambe le donne hanno dovuto ricorrere alle cure mediche ad avere la peggio l'aggredita che ha riportato contusioni facciali agli arti superiori e inferiori ed una profonda ferita al lobo dell'orecchio sinistro tutte lesioni ancora in fase di attenta valutazione da parte dei sanitari mentre la 37enne ha rimediato alcuni giorni di prognosi per contusioni al volto sarà ora l'autorità giudiziaria a valutare la vicenda anche sulla scorta dell'esito degli esami clinici cui l'aggredita sarà sottoposta per valutare la gravità delle lesioni riportate pochissimi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso nel telegiornale del Veneto abbiamo visto come nel summit regionale di Lega Ambiente oggi proprio Lega Ambiente ha promosso il Veneto sul tema dello smog l'aria più pulita nella nostra regione nonostante le problematiche restino ovviamente in primo piano una promozione dell'azione della regione ma anche delle buone pratiche dei comuni tra questi quello di Treviso dal rafforzamento dei trasporti pubblici agli incentivi per il cambio caldaia i comuni capoluogo del Veneto stanno investendo sempre più in politiche anti smog dal traffico al riscaldamento dall'industria all'agricoltura le fonti di inquinamento sono diverse così come le risposte delle varie amministrazioni a confronto al primo summit di Lega Ambiente per l'aria pulita siamo una città dove attraiamo molte auto da fuori città per cui dobbiamo puntare molto sulla mobilità sostenibile su questo stiamo lavorando a lungo termine con un finanziamento di 400 milioni per la gran parte PNRR ministeriale per la realizzazione delle due nuove linee tramviarie abbiamo fatto un grande piano di incentivo al cambio caldaie finanziando al 100% in molti casi il cambio delle caldaie più inquinanti ma con un grande piano di forestazione urbana che sta dando i suoi frutti infatti vediamo che anno dopo anno il valore medio dei PM10 sta scendendo abbiamo un problema di sforamenti legato anche alla bassissima piovosità che si sta colpendo in questi anni l'evito di legambiente di mettere in rete le buone pratiche adottate dai singoli comuni in coordinamento con la regione lo stato e l'Europa e ad allargare il campo a livello internazionale l'assessore all'ambiente di Venezia De Martin in un momento di crisi energetica che sta portando la nazione a riattivare le centrali a carbone i nostri interlocutori vanno a nucleare se per chi crede la scienza abbia come riferimento la scienza tutto ciò che la scienza oggi ci può reserenare sul nucleare chi non crede la scienza creda pure a Greta Thunberg perché 20 giorni fa l'ha detto lei stessa bisogna passare dal carbone al nucleare restiamo in tema e parliamo del Parco del Sile la direzione ha annunciato il rinnovo del piano ambientale il messaggio è quello che il parco non dà divieti ma cerca di far vivere in armonia l'uomo con la natura il messaggio è rivolto a tutti coloro che vivono o lavorano all'interno dell'area del Parco del Sile perché l'obiettivo nei prossimi mesi è di rivedere il piano ambientale operativo da 15 anni regole che alcuni ritengono oramai fuori dal contesto per questo la direttrice si è data a un semplice obiettivo armonizzare con le nuove normative le norme del piano ambientale questo per far sì che il cittadino l'utente possa avere un'agevolazione nelle pratiche edilizie che sono di competenza del parco e il nostro obiettivo è quello di cercare di dare una risposta certa e immediata appunto a tutte le persone che vivono nel nostro parco e soprattutto anche le persone che hanno attività e tra i primi provvedimenti è la certezza sui tempi per ottenere il parere positivo del parco per interventi e ristrutturazioni basta allungamenti a dismisura sulle modifiche richieste pena bocciatura dei progetti però non abbiamo intenzione di fare norme più restrittive cerchiamo appunto di far convivere la natura con l'uomo nel miglior modo possibile altro obiettivo importante riguarda le sorgenti di casa corba una manutenzione straordinaria al bosco dei fontanassi alla porta dell'acqua in particolare le passarelle che sono fondamentali anche là per poter osservare quello che è il fenomeno delle polle risorgive la nascita del fiume Sile intervento importante sotto il profilo turistico considerando che anche quest'anno si registra un incremento costante di presenze soprattutto dall'estero e anche per questo l'ente parco sottolinea è un turismo che deve essere fatto con attenzione perché la particolarità e le bellezze che ci sono all'interno di un parco non si trovano da nessuna parte la verità adesso anni di attesa è finalmente all'incrocio al baston sulla postumia a Ponzano sono iniziati i lavori per realizzare la rotatoria chiesta ripetutamente da cittadini e da comitati erano decenni che si trascinava la pericolosità di questa intersezione i lavori sono cominciati e quindi un'altra spunta sulla sicurezza stradale a Ponzano lungo la provinciale postumia ruspe finalmente in azione per trasformare il tristemente noto incrocio al baston in una rotatoria in mattinata al sopralluogo del presidente della provincia Stefano Marcone del sindaco Antonello Baseggio fin dai primi anni 90 si è cercato sempre di trovare una soluzione per questo incrocio pericoloso e sfortunatamente mortale siamo arrivati finalmente grazie a un intervento importante della provincia a realizzare questa opera che è importante non solo per la nostra comunità ma per l'intera provincia e viabilità provinciale nel 2018 qui aveva perso la vita Natalia Frare 65 anni di paese mamma del presidente del comitato zona nord Cristian Zanatta che da allora insieme al comune ha dato battaglia perché si arrivasse alla messa in sicurezza dell'intersezione tra via Volpago Nord via del Bellato e la postumia arteria su cui la provincia sta realizzando una serie di interventi qui al baston oggi ieri a Fossa Lunga domani a Castelfranco Veneto e quindi 130 opere nell'arco di 4 anni che stanno prendendo corpo con i tempi della pubblica amministrazione ma sostanzialmente neanche proprio lunghi in un paio d'anni dal momento in cui viene presentata la domanda è fatta la posa della prima pietra qui al baston un po' di più ma l'intervento è più complesso è chiaro che essendo un sito anche di rilevanza storica archeologica quello che potrà essere trovato non lo sa nessuno e quindi speriamo che ciò che gli interventi produrranno non creino anche delle difficoltà operative ed ora la cerimonia di premiazione del premio letterario Gambrinus Mazzotti lo spazio è la vera possibilità di crescita sostenibile della global economy lo spazio è l'unica opportunità di salvezza dell'ecosistema terrestre uscire al di fuori dell'atmosfera trovare le risorse di cui abbiamo tanto bisogno tenendo e salvaguardando il nostro pianeta il riscaldamento globale altererà in modo irreversibile l'ecosistema terrestre l'unico modo per evitarne le conseguenze non è limitare le nostre attività ma cercare altrove la salvezza per il pianeta la luna Marte gli asteroidi così l'astronauta Roberto Vittori a cui è andato il riconoscimento onoris causa del premio letterario Gambrinus Mazzotti giunto al traguardo della quarantesima edizione la cerimonia di premiazione della sala borsa della Camera di Commercio di Treviso e Belluno siamo arrivati ai 40 anni di premio 40 anni di libri e di autori in genere intorno ai 150 per anno sono costituiscono un patrimonio un tracciamento di ciò che è capitato in Italia negli ultimi 40 anni ed oggi in qualche modo siamo alla conclusione con questa ipotesi della transizione ecologica una delle mission che le Camere di Commercio hanno è proprio quella della promozione della cultura del proprio territorio in più abbiamo adesso anche l'opportunità nel mio nuovo ruolo di presidente di Asso Camera Estera di portare la cultura veneta la cultura trevigiana in giro per il mondo vincitrici della sezione alpinismo Silvia Metzeltin e Linda Cottino con l'alpinismo è tutto un mondo infine Gian Antonio Conati con arti e mestieri sull'Adige si è giudicato alla sezione artigianato di tradizione mentre sul problema del cambiamento climatico calato nella quotidianità è incentrato più idioti del dinosauri delle torinese Daniele Scaglione che si è giudicato non solo la sezione ecologia e paesaggio ma anche il premio la voce dei lettori con votazione spoglio indiretta i giovani dice dovranno privarsi del tempo per porre rimedio a quello che le generazioni precedenti hanno causato ma per il resto non voglio pensare che debbano rinunciare a nulla in particolare non voglio che rinunciino ai loro diritti fondamentali e alla possibilità di essere felici felici e sereni in questo mondo che è stato bello per noi e spero che sia bello anche per loro adesso lasciamo Treviso andiamo nel bellunese c'è la marmolada in primo piano perché la lunga chiusura del ghiacciaio ha i giorni contati sono attesi per questa settimana il provvedimento di revoca dell'ordinanza emessa lo scorso agosto dal comune di Canazzae e la pubblicazione di un piano della sicurezza redatto dalla protezione civile trentina oggi intanto però si registra la nuova presa di posizione di marmolada SRL e del comune di Roccapietore che hanno inviato una lettera al consorzio Dolomiti Superski in tempi brevi si risolve questione di qualche giorno parola dell'assessore vicepresidente della provincia autonoma di Trento Mario Tonina l'attesa è per il varo del piano della sicurezza per la riapertura del ghiacciaio della marmolada una relazione tecnica elaborata dalla protezione civile trentina che entro questa settimana consentirà la sospensione o addirittura la revoca dell'ordinanza di agosto del comune di Canazei fortemente sostenuta dagli impiantisti della società bellunese marmolada SRL al momento in estrema difficoltà in vista dell'avvio della stagione invernale stamattina proprio marmolada SRL e comune di Roccapietore hanno investito della questione il consorzio Dolomiti Superski il Dolomiti Superski è una voce importante fra gli imprenditori delle Dolomiti e forse la voce più importante quindi crediamo che avere alleato il Dolomiti Superski sia la cosa primaria è un alleato perché per il Dolomiti Superski la marmolada chiusa è sicuramente un punto negativo in una duplice missiva impiantisti e amministrazioni di Roccapietore chiedono al consorzio Dolomiti Superski di assumere ogni azione utile a consentire l'avvio della stagione invernale essenziale per la comunità sia sotto il profilo economico che sociale ufficialmente il consorzio finora ha tenuto un profilo basso preferendo stare alla larga da una questione politico-amministrativa che è diventata tale dopo la presa di posizione netta della provincia di Trento di qualche giorno fa la sicurezza delle persone prima degli aspetti di ogni natura la dichiarazione ufficiale dell'ente guidato da Maurizio Fugatti che ha annunciato la conclusione del lavoro dei tecnici chiamati a svolgere accertamenti in grado di dare indicazioni inconfutabili e funzionali alle previsioni gestionali future del ghiacciaio una linea tutt'altro che soft quella di Trento Bonari fino ad ora i solleciti inviati dal Bellunese che pur avendone facoltà ha evitato la strada dei ricorsi amministrativi non stiamo cercando la lite ma stiamo cercando di capire il perché perché probabilmente hanno i motivi che ce li dicano e c'è un grido dall'arbe del mondo del volontariato bellunese nei confronti di istituzioni e politica agire subito contro lo spopolamento che sta falcidiando i servizi per i più fragili la cartina di Tornasole è il report del servizio di trasporto e accompagnamento di anziani disabili alle strutture ospedaliere sentite 2 milioni 700 mila chilometri macinati in 7 anni una media di 10 mila persone fragili trasportate e accompagnate ogni anno all'ospedale o dal medico di base dalle tare alte al basso feltrino senza soluzione di continuità questo è stacco il servizio che il comitato di intesa offre in provincia di Belluno grazie al prezioso aiuto di 23 associazioni di mezzi di trasporto e una rete di volontari senza pari un servizio che ha fatto scuola in Veneto che purtroppo oggi è la cartina di Tornasole di un territorio che senza una visione coordinata del futuro prossimo rischia di scomparire causa spopolamento sentiamo proprio la necessità in questo momento storico di fare un appello a tutti coloro che possono fare qualcosa in particolar modo alla pubblica amministrazione affinché si metta insieme si mettono insieme ci siano dei tavoli di concertazione ma ci siano anche degli interventi efficaci sul territorio il report presentato oggi e che anticipa l'incontro celebrativo e di confronto in programma sabato prossimo in piazza Duomo a Belluno fa emergere situazioni di fragilità sommersa e diffusa specie nei comuni più a nord della provincia di cui sono testimoni impotenti i volontari impegnati nel servizio sovente costretti ad assumere il ruolo di assistenti guida di anziani che non hanno riferimenti familiari c'è una rete familiare molto più fragile c'è un sistema di volontariato che non si sente pronto e che con difficoltà assume nuove responsabilità c'è un sistema di servizi che pur esistendo e pur essendo organizzati però fanno fatica loro stessi a essere presenti come forse vorrebbero non servono maggiori fondi per il servizio servono azioni politiche chiare sul futuro di questa provincia spiega il comitato d'intesa che dal suo osservatorio guarda al rischio non così distante di negare ai residenti della montagna la perdita del godimento dei diritti quello alla salute lo è siamo veramente in difficoltà a poter garantire un trasporto sociale per l'intera popolazione belunese da qua a cinque anni la cronaca due donne ferite una delle quali in media gravità dopo uno scontro sulla 51 bis di Alemagna tra Domeggio e Lozzo di Cadore l'incidente è accaduto stamattina intorno alle 11.30 la dinamica al vaglio della Polstrada che ha rilevato i dati dello schianto nel quale sono rimaste coinvolte tre auto sul posto anche i vigili del fuoco come vedete dalle immagini il traffico a quell'ora è andato in tilta a causa della chiusura della statale che si è protratta fino alle 14 del pomeriggio per estrarre i feriti e mettere a punto in sicurezza i mezzi hanno operato i vigili del fuoco si infiamma e si allarga la polemica sulla richiesta di liquidazione del fondo dei comuni di confine a gamba tesa entra il deputato del PD Piero Fassino che chiama in causa la regione Veneto rea di non riconoscere autonomia alla provincia di Belluno arriva la piccata la risposta dell'assessore regionale Bottacini siamo alle solite la regione può dare solo un grado di autonomia anche quella amministrativa e lo ha già fatto qualora Fassino non se ne fosse accorto imbarazzante e maldestro così Bottacini liquida l'intervento del deputato del PD Piero Fassino eletto nella circoscrizione che rappresenta anche la provincia di Belluno e chi a proposito della richiesta di un assessore trentino di liquidare il fondo dei comuni di confine ha detto che quelle risorse non sono in discussione ma che semmai in tema di autonomia la regione Veneto dovrebbe in primo luogo applicare lo statuto che riconosce la specificità al bellunese apriti cielo la regione può trasferire l'autonomia solo per quello che ha siccome l'autonomia che hanno Trento e Bolzano è quella autonomia legislativa e fiscale che oggi la regione Veneto non ha è evidente che se non ce l'ha la regione non può trasferirla alla provincia Bottacini richiama i fatti espressi dai governi di centro-sinistra contro le province dall'azzeramento dei fondi alla riduzione del personale fino al tentativo di azzerarle del tutto con un referendum l'assessore Veneto lo rammenta al deputato Fassino Reo di non conoscere la situazione del territorio che lo ha eletto fa assolutamente sorridere a meno che non ci sia il dolo e quindi ci sia un tentativo di strumentalizzare con parole chiave come autonomia l'argomento cercando di far credere ai bellunesi quello che non è torniamo a Belluno migliaia di persone ieri alla fiera di San Martino un'immagine della città che fortunatamente ha riportato i fatti del periodo pre-pandemia tutto esaurito come vediamo in queste immagini a partire dai parcheggi cittadini stracolmi sin dalle prime ore del mattino il flusso di visitatori attirato dalle bancarelle è stato costante per tutta la giornata complice anche un sole tiepido che ha riscaldato le piazze in centro storico c'è stata l'esposizione dei trattori in occasione della celebrazione della giornata del ringraziamento agricolo code al museo Fulcis dove per l'occasione il biglietto d'ingresso è stato offerto la simbolica cifra di 3 vi lascio alle previsioni del tempo grazie per averci seguito e arrivederci entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura previsione del tempo per martedì 15 novembre sul Veneto tempo spiccatamente instabile una perturbazione raggiunge il nostro territorio al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse sulla pianura col passare delle ore nuvolosità in aumento con cielo ovunque coperto precipitazioni da prima su Rodigino in estensione via via anche al resto della regione temperature in calo minime sui 4-9 gradi massime intorno agli 11-13 gradi sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso con un po' di sole al mattino e nubi più consistenti nella seconda parte della giornata non si escludono locali piovaschi temperature minime sui 6-11 gradi massime intorno ai 13-15 gradi sul Trentino Alto Adige la giornata inizierà con delle nubi basse in alcune vallate altrove il tempo sarà abbastanza soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità e nel pomeriggio sarà possibile qualche pioggia temperature minime sui 4-5 gradi massime intorno ai 12-13 gradi dal meteo è tutto arrivederci entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura